come cavotti sotto un indumento scomodo e assoluto con cui non si può lavorare e rimuoversi. Eppure anche qui le donne hanno dimostrato di essere uguali agli uomini, come gli uomini si sono battute, sono state imprigionate, torturate, come gli uomini hanno fatto la rivoluzione. Le donne che hanno fatto la rivoluzione erano e sono donne con la vestigia di blanca, non donne divenuti e cittadini come lei, che se ne vanno in giro tutte scoperte, fascinandosi dietro un coraggio di uomo.